ben trovati amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è venerdì 27 ottobre 2023 vediamo subito l'almanacco del giorno e vediamo chi si festeggia oggi eccolo è Sant'Evaristo Sant'Evaristo Papa primo secolo primo secolo un tempo molto turbolento siamo all'inizio della chiesa e siamo nel pieno delle persecuzioni ebbene Sant'Evaristo nacque in Grecia da padre ebreo fu chiamato da Papa Anacleto a Roma dopo che Papa Anacleto era venuto a conoscenza della profonda cultura di Evaristo aveva studiato filosofia aveva studiato letteratura e si era avvicinato la fede cristiana praticandola poi in maniera molto intensa ebbene Evaristo andò a Roma e dopo la morte di Papa Anacleto fu nominato suo successore erano i tempi dicevo delle persecuzioni ed Evaristo morì martirizzato dall'imperatore Diocleziano fu sepolto accanto alla tomba di San Pietro in Vaticano ed ora vediamo le previsioni del tempo ecco la grafica abbiamo un tempo perturbato oggi sulle Marche cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge rasserena rapidamente e il tempo nel pomeriggio i venti saranno al mattino e al pomeriggio molto forti il mare è mosso le temperature 18 25 gradi il sole sta per sorgere alle 7 e 41 e tramonterà alle 18 08 le giornate si accorciano sempre di più ciò detto apriamo i giornali abbiamo il resto del carlino vediamo subito la pagina di Fano l'addio ai fondi per Gimarra serie fanesi i colpevoli ebbene il resto del carlino affonda il coltello nella piaga dopo che ieri ha annunciato che il ministero delle infrastrutture ha detto che lui non è competente a rispondere alla domanda rivolta dal comune se ancora erano disponibili i 20 milioni che erano stati promessi dei fondi CIPES dalla regione Marche a Fano ebbene è una risposta negativa tutto sommato e sembra che ormai questo grande grosso investimento questa grande contribuzione ormai impallidisca sempre di più rimane un'ultima esile speranza il comune di Fano fa affidamento in una norma che il governo dovrebbe inserire nella finanziaria nel decreto mille proroghe alla fine dell'anno ma anche questo è molto molto incerto certo che per la perdita per il comune di Fano di 20 milioni il più grosso finanziamento il più grosso contributo che lo Stato avrebbe dato al nostro comune è uno fatto molto molto grave e i giornali ovviamente riportano anche le rimostranze della opposizione del centrodestra che ieri ha convocato una conferenza stampa erano presenti i partiti della Lega dei fratelli d'Italia di Forza Italia e con loro c'era anche nominalmente l'Udc anche se l'esponente non era presente il centrodestra va all'attacco dopo la mancata proroga per la variante non si azzardino a scaricare le responsabilità sul governo ha detto il governo che ora si rifiuta di dare questi 20 milioni perché il comune di Fano non ha rispettato le scadenze che erano tassative per l'impiego di questi soldi sappiamo tutte le polemiche che hanno caratterizzato la variante di Gimarra ovvero la realizzazione dell'ultimazione degli interquartieri verso la statale adriatica poco a monte poco a sud diciamo di Fosso Segiore e beh insomma questa è una polemica importante e vedremo se il comune riuscirà a recuperare questi soldi oppure veramente dovrà fare così insomma dovrà subirne le conseguenze e insorge anche il candidato sindaco Giuseppe De Leo lo vediamo qui in questo articolo di spalla il candidato sindaco De Leo in calza e adesso il PD leverà le tende ebbene De Leo si riferisce a quanto dichiarato tempo fa dalla capogruppo del partito democratico Agnese Giacomoni che aveva detto il 31 agosto dell'anno scorso se la variante Gimarra non si farà perché ostacolata da una parte della maggioranza il PD dovrebbe levare le tende aveva detto la Giacomoni e quindi ribadisce De Leo e adesso il PD leverà le tende è una domanda certo polemica e proprio ieri l'assessore all'urbanistica Cristian Fanesi ha convocato una conferenza stampa per delineare l'itinerario che dovrà percorrere il piano regolatore generale piano regolatore generale che è stato approvato con una delibera di giunta quindi già una tappa fondamentale per il percorso che dovrà compiere questo strumento urbanistico Carigliano rilancio delle terme escluso dal PRG sembra una penalizzazione in realtà non lo è perché l'assessore ha voluto tenere fuori il progetto delle terme perché ancora non sa che cosa proporrà la proprietà del terreno e quindi aspetta di inserirlo perché poi se lo inserisce e la proprietà decide un'altra cosa certo poi le cose non si accordano e quindi è un modo per incentivare la proprietà a presentare questo progetto e Fanesi ha detto che finora dopo la presentazione un anno fa del progetto di massima delle terme di Carignano al cinema a Masetti non c'è stato più nessun incontro e questo silenzio della proprietà un po' preoccupa preoccupa i cittadini, preoccupa le forze politiche, preoccupa anche il comune e poi c'è un'altra notizia che ieri il vice sindaco ha dato quella che si muove qualcosa attorno all'ex zuccherificio questa grande area ormai rimasta da vent'anni così abbandonata, in degrado un investimento è andato a male ebbene la proprietà adesso ha presentato una nuova soluzione intende realizzarvi un polo tecnologico un polo logistico scusate un polo logistico un polo logistico è un polo per lo stoccaggio di materiale a servizio di una rete di distribuzione non commerciale ha precisato Fanesi dunque potrebbe risorgere e questa proposta anche se essendo arrivata troppo tardi per essere inserita nel piano regolatore generale viene valutata con interesse da parte dell'amministrazione comunale perché a questo punto se non si incentiva più alcun investimento quell'area rimarrebbe così allo Stato brado per tanti tanti anni e veniamo alla politica veniamo alla politica perché un altro articolo di spalla di questa pagina delle Corriere Adriatico evidenzia una dichiarazione di quel gruppo di progressisti che fanno parte del centro-sinistra anzi che non fanno parte del centro-sinistra ma si pongono a sinistra e chi sono? Sono Movimento del 5 Stelle bene comune Fano Ribella Partito Socialista e i Verdi i quali invitano gli altri quelli del centro-sinistra a avere proprio Partito Democratico liste civiche e via dicendo a fare un gruppo unito un gruppo unito per vincere il centro-destra ci rivolgiamo hanno detto a quelle sensibilità del Partito Democratico alle liste civiche che hanno operato in Consiglio Comunale in rappresentanza di momenti importanti di società civile ci rivolgiamo alla sinistra che ha scelto in questi anni di assumersi responsabilità di governo con la lista in comune ebbene a tutte queste persone loro si rivolgono perché è tempo delle scelte e della condivisione se non si trova un accordo comune per riunire tutte queste forze allora si lascia il via libera al centro-destra e questa iniziativa potrebbe essere importante per raggruppare per cicratizzare cicratizzare le ferite che ci sono aperte nel centro-sinistra e nella sinistra ed ora diamo voce a un personaggio guardate qui questa fotografia in primo piano pubblicata dal Carlino ebbene è quella di un lupo di mare si tratta di un lupo che da piccolo è Enzo Intonelli nato nel 1921 ha compiuto 102 anni non ha mai abbandonato il porto canale lungo il quale ha sempre orbitato la sua vita il segreto della longevità decenni di duro lavoro ebbene insomma quando uno lavora quando uno è in pieno esercizio fisico la vita dura un po' di più la sua è stata una lunga vita legata al mare dedicata al mare dove ha svolto la sua attività come marinaio e motorista è stato imbarcato nella flottiglia peschereccia fanese fino al 1979 poi come pensionato si è dedicato al rammendo delle reti ha fatto il retaro ebbene ancora queste figure storiche che siedevano sulla banchina del porto con la spoletta in mano con l'ago in mano per ammendare le reti fanno parte ormai di una marineria che sta un po' così passando nel suo ricordo e verrà riesumata in quel museo della marineria che l'amministrazione comunale intende realizzare nell'asilo ex Manfrini che è proprio recentemente passato di proprietà dall'agenzia del demanio culturale al comune di fano ed ora passiamo all'entroterra terre roveresche l'allarme del castagno questo castagno centenario che rischiava di crollare e ha provocato l'uscita di casa di alcune persone è rientrato ora tutti possono tornare nei loro appartamenti a Urciano riaperto il traffico il tratto di strada chiuso per scongiurare le conseguenze di eventuale crollo il fusto è stato controllato dagli esperti è stato oggetto di un drastico taglio lo vediamo qui in questa fotografia comunque l'albero è vivo e ora è in piena salute e poi vediamo una relazione che hanno fatto i carabinieri a Monteporzio a Monteporzio si sono verificate in un solo giorno dieci tentate frutte truffe nei confronti degli anziani sono stati dieci gli anziani contattati da una telefonata suo figlio è stato coinvolto in un incidente ora ha dei guai giudiziari per liberarlo costo ci occorrono dei soldi ma nessuno nessuno di questi anziani è caduto nella trappola e quindi vuol dire che insomma gli avvertimenti che si sono diffusi nel territorio stanno ottenendo veramente successo gli anziani si stanno facendo più guardinghi più furbi più attenti e quindi non cadono più in questa rete che in passato emetteva parecchie vittime è accaduto a Monteporzio nessuno ha abboccato grazie alle dritte fornite dai carabinieri e vi raccomando state attenti tutti in qualsiasi frazione abitate a Urbino a Urbino una notizia che insomma è eclatante Urbino ha creato la plastica mangiabile siamo arrivati a questo punto le ricerche di un team guidato dal professore Andrea Pompa dell'Università di Urbino sono state pubblicate sulla prestigiosa rivista Biotechnology Journal ebbene qui siamo veramente nella ricerca che guarda il futuro nasce la plastica mangiabile ebbene è un prodotto che ancora è futuribile perché non è proprio pronto sul piatto questo prodotto ma è un prodotto che risulta dalla ricerca scientifica innovativa con uno sguardo rivolto al futuro con l'obiettivo di poter risolvere i problemi moderni insomma quello dell'alimentazione è un problema un po' di carattere è un problema mondiale di carattere un po' futuribile un futuro più sostenibile prevede l'utilizzo di energie e materie rinnovabili e tra queste ultime i biopolimeri sono tra i più studiati tra i materiali più promettenti per la produzione di nuovi biopolimeri c'è un grande interesse per quelli a base proteica e quando si parla di proteine si parla anche di alimentazione ancora naturalmente è presto per dirlo premetto ancora una volta la ricerca deve proseguire anche se alcune caratteristiche chimico-fisiche di questo nuovo biomateriale sono già state testate in questo senso quindi sono stati fatti dei progressi veramente mangiare della plastica al momento ci fa un po' ribrezzo però in futuro credo che poi la cosa venga così digerita diciamo così a Urbino sempre a Urbino il caso Riceci si risolverà intorno ad un tavolo si parla ancora della discarica in consiglio comunale il sindaco Gambini risponde alla interrogazione del partito democratico dobbiamo discutere su dove fare gli impianti ebbene il caso Riceci ora viene accostato al termovalorizzatore perché se non si fanno le discariche bisogna fare gli impianti e questo è un po' un altro problema che viene dibattuto comunque l'iter per l'approvazione o il diniego alla realizzazione della discarica di Riceci è ancora in corso ma la poca distanza del sito rispetto al più vicino centro abitato inferiore a 2000 metri a 2 chilometri sembra un aspetto insormontabile per avallarne la costruzione quindi un sito così vicino a un centro abitato insomma lì la discarica non si può fare nemmeno per legge quindi è inutile discutere è inutile andare avanti secondo appunto gli ambientalisti Santi su rifiuti e antenne ci sia richiesta ebbene sono le richieste del partito democratico quali sono i regolamenti per l'installazione delle antenne di trasmissione in città anche in vista delle future tecnologie ebbene a questo punto interrogativo i progetti per riceci nel comune di Petriano sono dei punti che vanno ancora risolti perché sono delle problematiche che interessano il vivere quotidiano della gente questo è un altro articolo che riguarda da una parte i rifiuti da una parte le antenne sono due aspetti ambientali entrambi di grande rilevanza vediamo anche qualche pagina che riguarda Pesaro e si parla degli alloggi per gli studenti questa volta in passato abbiamo parlato della crisi abitativa che coinvolge tutta la nostra provincia ma in modo particolare coinvolge anche gli studenti gli studenti che arrivano a frequentare i corsi universitari a Pesaro e a Fano e abbiamo che fanno difficoltà fanno difficoltà a trovare alloggio alloggi cari e introvabili in cantiere però l'amministrazione comunale pesarese pone 200 posti letto per studenti artisti e atleti l'assessore ai lavori pubblici Riccardo Pozzi dice il comune non può calmierare i prezzi ma creeremo nuovi spazi perché i prezzi li fa il mercato previste foresterie residenze sociali in via Cattaneo e a San Benedetto e questi sono i cantieri che sono collegati al progetto Pinqua i termini sono tassativi in gara devono andare entro l'anno perché poi questi progetti hanno dei termini temporali molto molto definiti e molto precisi abbiamo visto come sta andando a finire l'investimento dell'interquartieri a Fano e poi vediamo un caso di buona sanità parliamo anche di buona sanità dopo aver denunciato tantissime volte i problemi le disfunzioni in termini di cure sanitarie in termini di ospedale di assistenza territoriale ebbene un caso di buona sanità interessa Nicola Bruno Nicola Bruno è un dipendente della Profligal sta grande azienda che crea che lavora l'alluminio in quel di Fano ebbene è giunto all'ospedale in pericolo di vita Nicola Bruno 40 anni era al pronto soccorso del Santa Croce quando si sentiva strangolare non riusciva più a respirare è per fortuna che è arrivato il dottore Emilio Cavani della rianimazione che ha usato un kit che si utilizza per la pediatria ed è riuscito ad infilare un tubicino in gola facendo passare l'ossigeno un minuto di ritardo e il paziente sarebbe morto quindi se l'è vista veramente brutta una manovra che è stata lodata anche dagli altri medici che erano nel circondallo lui ovviamente poi non ricorda più nulla perché è caduto è caduto insomma si è addormentato e si è risvegliato addirittura dopo tre giorni in rianimazione però insomma è una storia finita bene e qui tutto il ringraziamento all'apparato medico e alla bravura di questo dottore che gli ha salvato la vita Nicola Bruno dipendente della Proflogan con la moglie concetta gentile in questa fotografia attacco a Marche Multiservizi perché dà soldi a Confindustria è un interrogativo che evidenzia oggi il direttore provinciale della Confcommercio Amerigo Varotti sono 70 mila euro perché Confindustria dà questi soldi perché scusate Marche Multiservizi dà questi soldi a Confindustria dietro questo accordo c'è in realtà un'attività di lobbying punto interrogativo dice Varotti cioè sostegno pubblico alle scelte di Marche Multiservizi come nel caso di Riceci un polverone insomma nel mondo delle associazioni di categoria e non solo ebbene sono delle eventualità sulle quali a Varotti chiede chiarezza e insomma questa manovra fatta da Marche Multiservizi che rientra in questa grande associazione degli industriali desta qualche perplessità allo stesso il caso è stato sollevato in una lettera inviata a tutti i comuni soci e un'altra gemella per la fanese Aset e poi vediamo l'arrivo della Meloni della presidente del Consiglio dei Ministri la capo del governo Giorgia Meloni ad Aqualagna ad Aqualagna verrà per firmare un patto epocale ebbene l'accordo prevede che la regione Marche riceverà un finanziamento di 330 milioni con 40 altri milioni aggiuntivi per finanziare molte molte opere tra cui le infrastrutture stradali che partono dalla Guinza che prevedono la pedemontana delle Marche l'ampliamento a quattro corsie della statale 16 tra Falconare e Torrette l'ultimo miglio d'uscita dal porto di Ancona e poi nelle ferrovie è previsto il completamento del nodo Falconara l'elettrificazione della Civita Nova Albacina l'anello ferroviario della linea Fabriano Pergola questi 40 milioni e poi gli altri 330 che verranno dati dalla regione Marche e beh poi ovviamente la Meloni inaugurerà la fiera del Tartufo ad Acqualagna un momento importante una presenza importante ci saranno poi anche tutti gli altri politici Acquaroli insomma tutti gli estimatori del governo che non mancheranno ebbene a frenare gli entusiasmi per questa presenza però nel resto del Carlino è la ex parlamentare Alessia Morani la Meloni qui per ridare fiato alla Giunta dice che la Giunta ha fatto tanti tanti errori sta fallendo un po' su tutto e quindi si cerca un po' di rianimarla a cominciare dalla sanità dove nella nostra regione esistono gravi problemi sconti ai militari dicono sì 200 attività presentata l'iniziativa promossa da Confesercenti e dal reggimento dei militari abbiamo 600 famiglie importante creare sinergie per la città tiriamo ancora la pagina e vediamo che l'ultima pagina la 12 del Carlino parla dei conti dell'ABS che insomma sono che fa meno utili rispetto all'anno scorso però insomma sono sempre utili importanti da 24 si passa a 16 milioni di euro sono presentati i risultati del terzo trimestre e migliora la posizione finanziaria ma previsioni non buone per il 2024 speriamo che non sia così ed ora passiamo a così brevemente a relazionare sul Corriere Adriatico dove l'apertura è dedicata alle dichiarazioni del Vice Sindaco Cristian Fanesi e Assessore dell'Urbanistica per quanto riguarda l'itinerario che deve compiere il piano regolatore dopo l'approvazione da parte della Giunta abbiamo le critiche del centrodestra vediamo qui nella foto riuniti tutti i rappresentanti abbiamo Giampaoli la Tarsi e la Manocchi di Fratelli d'Italia abbiamo Di Tommaso per quanto riguarda Forza Italia e Brandoni e Ilari per quanto riguarda invece la Lega niente proroga per i 20 milioni macchia indelebile sulla Giunta il centrodestra contesta le scelte della Giunta Seri sulla variante di Gimarra e poi un articolo che riguarda una presenza molto molto importante a Fano San Marco i cento anni dell'asilo le suore al servizio della città e proprio da oggi iniziano delle riunioni delle iniziative importanti questa sera alle ore 21 al Gonfalone ci sarà una tavola rotonda che ricorda la presenza di questo importante nucleo di religiose domani e poi domani la messa a San Paterniano alle ore 16.30 con la presenza di tante di tante autorità le altre notizie pubblicate dal Corriere sono pressa poco le stesse del resto del Carlino Giorgia Day febbrili preparativi ad Acqualagna e per quanto riguarda le truffe a Monteporzio 10 anziani contattati ma non sono caduti nella rete questo è tutto per il momento a questo punto vi saluto vi do appuntamento domani alle 7 e vi auguro una buona giornata grazie a tutti